Domani avviso meteorologico prolungato in Campania La curiosità, fino alle 2100 del 17 maggio, domani è ancora maltempo in Campania ma non sarà allerta del tempo arancione pioggia e i possibili temporali fino alle 2100 di mercoledì 17 maggio. Anche domani mercoledì 17 maggio avviso meteorologico in Campania ma la criticità è inferiore, declassata da arancione a giallo. La protezione civile Campania nel suo bollettino conferma l'avviso arancione nella maggior parte della regione per prevedere condizioni meteorologiche ai fini protezione civile fino a 9 di sera oggi martedì 16 maggio 2023 e lo estende per domani 17 maggio, sempre fino alle ore 21. Sono ancora previste precipitazioni, dai locali a dispersi aree 3, 6 e 8.2 day, a causa del maltempo, molti comuni hanno scuole chiuse, è difficile per tali misure da adottare per domani. Il bollettino meteorologico della protezione civile regionale spiega l'evoluzione della situazione avviso meteo giallo in Campania, temporali e tempeste di grandine di mercoledì 10 maggio.